Sarò il sindaco di tutti, di tutti i romani, anche di quelli che non mi hanno votato, perché è questo quello che deve fare un sindaco. Lavoreremo per riportare la legalità e la trasparenza all'interno delle istituzioni che dopo oltre vent'anni di malgoverno e dopo mafia capitale non le avevano più, non vedevano più questi principi, questi criteri a guidare l'amministrazione. Noi li riporteremo come centrali per le scelte politiche. Con noi si apre una nuova era.